In occasione della Festa della Musica, come viene in altre parti d'Europa, nella Biblioteca Nazionale di Cosenza si è svolta questa importante manifestazione. Una festa che coinvolge in maniera organica anche tutta l'Italia, trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare. Questa edizione del 2019 si è aperta con l'esecuzione della storica arpa di Sebastien e Pierre Larde dell'orchestra Vincenzo Bellini. Come si può vedere l'arpa moderna è molto più imponente, però il sistema meccanico è stato brevettato proprio da Sebastien Erhard e Pierre Erhard nel 1816 e da allora, dopo una lunga serie di sperimentazioni, si è giunti a uno stereotipo di arpa che si differenzia dalle arpe antiche appunto per una meccanica molto sofisticata e che è stata rimessa in funzione da maestri di Cremona e grazie anche al mio apporto. L'arpa è ritornata a suonare dopo 200 anni ed è stata donata dal fondo Giuseppe Giuliano, suoni suggestivi che si riescono ad ottenere solo con questo strumento storico. Ma sicuramente un suono molto delicato, un suono che possa valorizzare la tessitura armonica dello strumento, soprattutto nelle parti acute e nella tessitura semi grave. Nella serata inaugurale è stata la maestra Rosalba Girigliano a esibirsi con l'arpa, con un repertorio musicale barocco che ha spaziato dal 700 al 900. Il repertorio barocco si presta infatti sia dal punto di vista tembrico ed esecutivo e anche per quanto riguarda l'accordatura, infatti è stata appositamente accordata a 432 rispetto all'arpa moderna che è più tesa, appunto per rispettare l'idioma originale dello strumento.